Il secondo canto del Purgatorio si svolge sulla spiaggia ai piedi della montagna, ovviamente del Purgatorio, dove arrivano le anime per iniziare la propria espiazione. Siamo all'alba del 10 aprile del 1300, quindi il giorno di Pasqua, o, secondo altri commentatori, del 27 marzo del 1300. Il cielo, da Vermiglio, inizia a farsi dorato e Dante, nella seconda terzina, ci dà alcuni riferimenti astronomici per descrivere il momento in cui si svolge la scena. La notte, che ruota in una posizione opposta a quella del sole, spuntava, ci dice Dante, fuori dal gange in congiunzione con la bilancia, mentre non è così quando la sua durata eccede quella del giorno. I due poeti si trovano ancora sulla spiaggia del monte del Purgatorio, indecisi su quale sia il cammino da intraprendere. Quando all'improvviso vedono avvicinarsi a grande velocità un punto luminosissimo, è l'angelo nocchiero che, rifiutando gli strumenti umani, cioè i remi, con la sola forza delle sue ali dalle piume eterne, cioè che non cadono come piume mortali, fa avanzare un'imbarcazione stretta e tanto leggera che non affonda minimamente nell'acqua. Al suo interno si trovano più di cento anime che l'angelo nocchiero ha raccolto alla foce del Tevere per portarle fino all'isola del Purgatorio e tutte insieme cantano il Salmo nella fuga di Israele dall'Egitto. Questo è proprio il titolo del Salmo, quindi nella fuga di Israele dall'Egitto. Appena Virgilio riconosce l'angelo invita Dante a inginocchiarsi e a unire le mani in preghiera e quando l'angelo inizia ad avvicinarsi, si fa sempre più vicino, Dante non riesce più a sostenere la visione di tanta perfezione che, ci dice, renderebbe beati il solo descriverla e deve quindi abbassare gli occhi. Come i due poeti, anche le anime che approdano la spiaggia sono spesate e chiedono loro indicazioni su quale sia la via da seguire, ma Virgilio spiega che anche lui e Dante sono appena arrivati seppur da un'altra via e quindi anche loro non sanno dove andare di preciso. A questo punto le anime si accorgono che Dante ancora respira, in altre parole è ancora vivo e dopo essere impallidite per lo stupore gli si accalcano attorno come fa la folla con un uomo che regge un ramo d'ulivo, cioè come fa la folla con un uomo che porta un messaggio di pace. Tra le tante anime, una in particolare riconosce Dante e si fa avanti, è quella del musico fiorentino Casella. I due cercano di abbracciarsi per ben tre volte ma non possono, non ci riescono perché le anime sono ombre inconsistenti tranne che nell'aspetto. Bella la terzina che descrive questo, ve la leggo velocemente Casella spiega poi il perché sia arrivato solo in quel momento al purgatorio. L'angelo Nocchiero infatti, secondo la volontà di Dio, non accoglie sempre le anime degli uomini non appena la morte sopraggiunge, ma visto che in quel momento era iniziato il giubileo, l'angelo appunto le traghetta tutte. Ricordandosi poi dei bei tempi andati, Dante prega il musico di intonare una canzone che dia sollievo alla sua anima, molto provata dal viaggio attraverso l'inferno. Casella intona una canzone del convivio, dal titolo Amor, che nella mente mi ragiona, con una tale dolcezza che tutti rimangono estasiati ad ascoltare. All'improvviso però irrompe Catone per rimproverare le anime e spronarle verso il cammino di redenzione, che è implicitamente anche quello di Dante. Dopo il richiamo di Catone, la folla si disperde e, ci dice Dante, così come fanno i colombi quando, radunati per il pasto, se appare qualcosa che li spaventa, lasciano subito il cibo perché sono assaliti da una preoccupazione maggiore. Allo stesso modo anche Dante e Virgilio si allontanano con la stessa premura. Bene, adesso una breve analisi del canto. Simili al canto precedente, quindi al primo, del Purgatorio, la descrizione dell'alba ci suggerisce implicitamente l'importanza del tempo nel Purgatorio, il suo essere calato in un'atmosfera in qualche modo terrena e temporale a differenza dell'inferno e del Paradiso. Il Purgatorio infatti si trova nel mondo ed è destinato a scomparire dopo il giudizio universale. Lo scorrere del tempo è fondamentale nel Purgatorio in quanto da esso dipende la purificazione delle anime. Inoltre, non conta soltanto il tempo effettivo dell'espiazione, ma anche quello che le anime trascorrono in attesa. Come accade alle anime che aspettano nell'antipurgatorio è a quella di Casella stesso, a cui solo le indulgenze del Giubileo hanno permesso di essere accolto dall'angelo Nocchiero. Questo particolare, quindi quello del Giubileo, tra l'altro, ci fornisce un'ulteriore conferma dell'anno nel quale si svolge la Divina Commedia, cioè il 1300. Nonostante l'aspetto di questa attesa obbligata, nel canto è molto presente il motivo della velocità, soprattutto all'inizio. L'angelo, ad esempio, appare velocissimo e altrettanto velocemente riparte, dopo che le anime, ovviamente, sono scese dalla barca. Al motivo della velocità è poi contrapposto quello della lentezza, che compare non appena le anime iniziano a indugiare presso i poeti, finché non interviene Catone a rimproverarle, introducendo così un altro tema che ricorrerà spesso nel Purgatorio, e cioè quello della volontà delle anime di espiare quanto prima le proprie colpe. Quindi se le anime si erano attardate, infatti, è solo perché trattenute dalla dolcezza del canto di Casella. Il canto che invece gli espianti devono praticare è quello dei salmi, come quello che appunto stavano cantando sulla barca, che li trasportavano, lo abbiamo già detto, il titolo è In exito Israel de Egitto, che invoca allegoricamente la liberazione dal peccato e dalla schiavitù della condizione terrena, riferendosi alla liberazione degli ebrei dall'Egitto. E questo ce lo spiega lo stesso Dante nel Convivio e nell'Epistola a Can Grande della Scala. Tutto ciò ci porta poi anche a riflettere su come la prima immagine che Dante dà di queste anime sia proprio quella del coro, cioè dell'armonia, della solidarietà. Nel Purgatorio, infatti, le anime sono solidali tra loro, a differenza dell'Inferno, dove invece sono l'una contro l'altra, e solidali anche con Dante, che qui è loro uguale, ben più che nelle altre cantiche. Come testimoni anche il tema ricorrente di sorrisi e di abbracci tra Dante e le anime del Purgatorio, che vedremo successivamente, di cui il primo, appunto, il primo episodio di un abbraccio, un tentativo di abbraccio con un'anima, e proprio quello tra Dante e Casella. Molto bene, questo video termina qui, spero vi sia utile. Ciao a tutti e alla prossima!